Ha perso la vita in un incidente in moto a Messina Olga Cancellieri, avvocatessa 46enne, molto nota in città anche per essere la legale di riferimento di Addio Pizzo. Il sinistro si è verificato ieri sera, poco prima delle 21, tra via Centonze e via del Vespro, alle spalle della chiesa di Santa Caterina. La donna viaggiava in uno scooter che, per causa ancora in fase di accertamenti, si è scontrata contro una moto condotta da un 25enne. Nel violento scontro, Olga Cancellieri è finita prima contro i paletti di contenimento e poi sul marciapiede. Poco dopo il suo cuore ha cessato di battere, quasi illeso il conducente della moto. Olga Cancellieri era molto conosciuta a Messina, dove era stata anche consigliere di quartiere. Come avvocato era anche impegnata sul fronte antimafia come legale di riferimento del comitato Addio Pizzo.